La Sossozione Nazionale dei Costruttori Edili chiede al Governo un provvedimento che consenta di poter sospendere i cantieri con l'eccezione delle situazioni di urgenza. Dobbiamo prendere atto che non ci sono le condizioni per poter proseguire, spiega il Presidente del Lance, Gabriele Buia, in merito all'emergenza coronavirus. L'Associazione di Categoria sottolinea le difficoltà di proseguire senza esporre imprese e lavoratori a rischi non gestibili. L'emergenza coronavirus produce già effetti pesanti sull'economia. A stimarne l'ordine di grandezza è il rapporto congiuntura di ConfCommercio. Considerando il deciso peggioramento registrato a marzo, il report stima per marzo una flessione su base mensile del PIL al netto dei fattori stagionali dell'1,9%. Il calo su base annua sarebbe del 2,4% rispetto allo stesso mese del 2019. Nel complesso del primo trimestre il PIL è stimato ridursi dello 0,8% rispetto all'ultimo quarto e dell'1% nel confronto annuo. Secondo l'Associazione di Categoria nel 2020 si rischia una perdita dei consumi complessivi delle famiglie, pari a oltre 18 miliardi di euro. Il Consiglio di Amministrazione e di Assicurazioni Generali ha deciso di costituire un fondo straordinario internazionale fino a 100 milioni di euro per far fronte all'emergenza Covid-19. Il fondo in cui gli interventi saranno rivolti principalmente in Italia, ma anche negli altri paesi in cui generali opera, prevede iniziative immediate per rispondere velocemente alla crescente emergenza, ma anche di medio periodo. Per favorire il recupero delle economie e dei paesi interessati una volta terminata la situazione di crisi, al fondo potranno contribuire anche i dipendenti di generali. Ferrari ha messo in atto ulteriori e ancora più rigorose misure di prevenzione per garantire i più alti standard sanitari alla luce del decreto dell'11 marzo 2020 relativo al Covid-19. La presenza dei lavoratori negli stabilimenti di Maranello e Modena è stata ridotta al minimo, mentre la restante parte dei dipendenti lavora da remoto. La continuità della produzione si fonda sulla continuità della catena di fornitura. Il contesto è estremamente mutevole, ma fino ad ora non ha comportato delle problematiche per gli impianti produttivi di Ferrari. Grazie. 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 Grazie.